E da quanto tempo fai l'assistenza domiciliare? Da due anni. Tu invece che lavoro fai? Io sono dicappato, non lavoro. Dicappato, sei disabile. Non è che se uno è disabile non può fare niente della vita. Beh, insomma. Per esempio, tu sei disabile, però questo non ti impedisce di guardarmi le tette. No. Me ne guardi, me ne guardi. E ce l'ho. E ce l'hai pure belle, voglio dire. Allora, viva le tette. Evviva, le tette. Non mi scottivo. Non lo vuoi. Sei sputato? Io no, libero, libero. Però è d'altronde nella mia condizione. Beh, insomma, bisognerebbe trovare una persona speciale. Ma guarda, secondo me c'è mercato per tutti. Sì. Sì. Ma io non sono proprio il tipo da relazione, legami, matrimoni. Brava, brava. Mi piace divertirti. Eh sì. Quindi? Quindi che fai stasera, dico? Stasera? Sì. Giovedì vado a pattinare sul ghiaccio con i miei amici. Peccato. Vedi, a saperlo mi facciamo mettere le gomme da neve. No, vabbè, ma siamo tutti ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.